Il Veneto è una delle regioni alle prese con una rapida ripresa dei contagi. Allora andiamo in diretta dal nostro inviato, Jacopo Cecconi. Sì, vedete forse uscire adesso proprio un carro funebre qui dalla RSA di Conselve. Siamo in provincia di Padova. Questo è il quinto decesso causato proprio da un focolaio di Covid. Il Veneto ha 1029 casi anche oggi, 7 decessi in tutta la regione. Soprattutto a preoccupare è il trend del 60% aumentato in una settimana. La situazione è ancora sotto controllo perché in area medica i posti occupati da Covid sono il 4%, in terapia intensiva il 5%. Ma le vaccinazioni sono sotto la media nazionale e poi ci sono focolai come questi, addirittura 93 contagiati nonostante tutti fossero vaccinati. Il presidente della regione Zaia dice con questo trend rischiamo che la regione cambi il colore, passi dal bianco al giallo. Sentiamolo. Al momento non rischiamo la zona gialla, ma però non è che bisogna fare vivere come non ci fossero domani. Perché di questo passo posso garantire che arriveremo alla zona gialla e passeremo anche agli altri colori. perché se questo lento crescere dei contagi e dell'occupazione ospedaliere non si arresta, ovviamente in questa pandemia dei non vaccinati arriveremo anche ai cambi di colore.